Amici di Studio Sound, del premio Vincenzo Crocitti, soprattutto sono in compagnia di Rosa Maria Mauceri, regista, racconta una storia importante, soprattutto anche scrittrice, legata come regista a un progetto importante che io vorrei raccontare direttamente a lei perché è incredibile, ha fatto venire la pelle d'oca. Innanzitutto, buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Tenga lei, sì. Sono Rosa Maria Mauceri, nata in Belgio, da genitori migrati siciliani e cresco in una famiglia abbastanza violenta. Quindi il libro, il mio primo racconto, è proprio autobiografico. Racconto queste violenze in famiglia e anche quello che subisco proprio sulla mia pelle, un tema che purtroppo sembra attuale, quello del bulismo a scuola. Perché? Perché sono di lingua madre francese, però i miei genitori decidono di trasferirsi nel cantone fiamminco e quindi vengo bulizzata per i capelli neri, per questo accento che sentite anche oggi. Quindi racconto un po' una crescita. La seconda parte è perché durante poi l'età più adulta mi avvicino molto a mia mamma, però già vivevo in Germania, mi sono spostata, trasferita dal Belgio in Germania e mia mamma mi racconta l'esistenza di un'altra sorella che si chiama, come me, Rosa. Li chiedo da dove esce questa sorella e lei mi dice sì, è morta, fu trasportata in un'altra struttura negli anni 60, precisamente il primo luglio 1968. Sapendo che cresco in questa famiglia violenta, anche perché ho avuto la necessità di scrivere questa autobiografia è difficile da fare, proprio per raccontare che tipo di individuo che era mio padre, infatti nel racconto dico solo individuo e scopro durante la mia ricerca perché comincio a indagare prima da sola, facendomi passare anche come figlia adottiva su tanti sit social per capire un po' come si comportano, quali sono le loro domande aperte eccetera, e farmi un po' un'idea. Arriviamo a dei documenti che purtroppo non sono cronologici, dove ci sono tanta anomelia e denuncio, denuncio tante strutture italiane, cioè in Sicilia, e scopro che mia sorella non è morta. Ecco perché nasce poi il desiderio di fare il cortometraggio, quindi detrago proprio dal racconto del libro, metto in immagine, perché mi auguro che mia sorella si riveda il nostro racconto. Intanto già il titolo del cortometraggio, se si può dire, fa capire effettivamente quanta verità e quanta anima ci sia e credo anche a me, sentendolo anche solo raccontare, ha fatto venire la pelle d'oca, quindi immagino anche nel vedere proprio per immagini il racconto una verità rubata, quindi più giusto di così questo titolo. È una missione e io ringrazio anche questo premio Vicenzo Crocite, Francesco Fiumarella, che mi ha permesso anche di già diffondere tramite Policinema TV Paolo Piccone, perché più ho la possibilità di fondere, più è probabile che arriva mia sorella e che ci veda e questo è il motivo per il quale io ho utilizzato l'arte, l'editoria, naturalmente è tutto un fai da te e devo dire che non mi aspettavo questo tipo di recensione, naturalmente posso far piacere e appunto il progetto in laboratorio che sarebbe il film completo con il lieto fine che ci auguriamo tutti e il laboratorio. Io intanto in prima persona mi auguro che anche distrattamente, casualmente, sua sorella possa in qualche modo ricevere questo messaggio e anche un po' al potere del cinema e al potere dei social, quindi prima di tutto mi auguro questo e poi le faccio un grande bocca al lupo per questa serata, sicuramente vivrà una cosa molto bella che è il premio Vincenzo Crocitti, di questo ne sono certa, quindi bocca al lupo. Grazie, grazie di cuore e un grande abbraccio a questa bellissima Italia e a questa Sicilia che ha lasciato ancora in me comunque le ferite aperte, ma non so, trova sempre il modo di farmi tornare in Sicilia. Grazie. Grazie, grazie mille.